Oggi vi voglio raccontare quello che ci è successo ieri, ieri sera durante una partita allenamento con due ragazzi che si sono trovati in una situazione molto comune tra i tennisti quando fanno una partita a qualsiasi livello, sia amatoriale sia professionistico. Raccontate in un modo diverso, particolare, speriamo vi piaccia. Di quale situazione sto parlando? Io vi dico solo una cosa, don't say cat if the cat is not in the sack. Prima di proseguire con l'argomento ti informo che abbiamo pubblicato una dispensa dove il titolo dice tutto, singolare ABC della partita. In pratica se sei un tenista principiante che sta facendo le prime partite o se giochi da diverso tempo però non sei molto soddisfatto di come ti approcci al match, in questa dispensa daremo delle linee guida per aiutarti a giocare in modo più consapevole divertendoti vincendo magari qualche partita in più. Per scaricare questa dispensa che è disponibile fino alla fine di aprile è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter. C'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando nel canale YouTube oppure clicca nel link presente nella biografia, nel profilo Instagram o pagina Facebook. Ma torniamo in campo e come sempre quando si prende un cestino è un po' come al supermercato, c'è almeno una delle ruote bloccata. Però una volta risolto questo problema tecnico andiamo in campo con due ragazzi che giocano a Pittino. Per i Veneti Pittino non è un tacchino piccolo ma è un gioco dove la palla si posiziona sopra la rete, si colpisce la rete con la racchetta e si gioca una partita a metà campo. L'obiettivo di questo gioco è quello di trovare un po' di sensibilità e soprattutto nel cercare gli angoli. Ma andiamo nel vivo del match. Oggi abbiamo lavorato principalmente sulla fase di attacco. Attacco che deve essere giocato veramente bene ed efficace. Altrimenti eccolo qua, una bella stafilata di passante. Lo rivediamo un attimo. Ma andiamo avanti con il match. Ecco qua, prima una palla fuori, vediamo cosa succede adesso. Ecco qua, questo è il classico mulinello, sia lo sciogli-spalla e serve per scaldare appunto la spalla prima del servizio. E serve per sbloccare un pochettino l'articolazione. Grande passante, eccolo qua, sempre il nostro sciogli-spalla. Vediamo adesso cosa succede. Servizio centrale, palla sul rovescio. Taglione, che oggi abbiamo lavorato anche sui taglioni. E poi, ok, palla a rete. Attenzione che siamo qui sul tiebreak. Il tiebreak è un gioco dove si gioca a sette punti, con scarto di due. Eccolo qui. Palla fuori. Servizio da destra, si giocano due servizi a testa. O meglio, il primo servizio da destra. E poi si alterna, si giocano due servizi a testa. Vediamo quest'ultimo punto. Taglione, attacco. Palla al corpo. E adesso schiaccia, schiaccia, schiaccia. Attenzione, palla contesa. Andiamo a vederla. Ed è fuori. Fuori di un millimetro. Fermiamoci un attimo su questa pallina. È iniziato il tiebreak. Uno dei due giocatori è in vantaggio per 6 a 3. E gli passa per la testa il concetto del mi basta un punto e ho vinto la partita. Ogni volta che ci passa questo pensiero, stai certo che poi andiamo a sbagliare. Come dice la nostra Roberta Lubrano, mental trainer, dobbiamo essere focalizzati sul presente, non sul futuro. D'altronde, il trap lo aveva già detto anni fa. Don't say the cat is in the sack if the cat is not in the sack. Insomma, non cantare vittoria troppo presto. No, non cantare vittoria troppo presto. Non cantare vittoria troppo presto. Quindi scrivi nei commenti qui sotto quante volte anche tu ti sei trovato in questa situazione.